Ciao videomakers, bentornati sul canale. Oggi sono particolarmente allegro perché fra quattro ore più o meno vado in spiaggia insieme a un amico fotografo a fare foto e video. Non è un lavoro, ci andiamo proprio per divertirci. Dovrebbero venire anche due modelle, quindi già mi sono attrezzato con il mio 50mm f1.4 e tanto basta farmi felice, sono una persona semplice. Faccio questo video perché ho fatto una riflessione qualche ora fa. Pensando di organizzare la borsa per il pomeriggio ho realizzato che, visto che sono lì a cazzeggio, mi sarebbe piaciuto oltre a fare video fare anche qualche foto. All'inizio volevo portarmi la C200, fare qualche ripresa al tramonto in RAW e poi tirar fuori sti colori fighi, no? Però ho detto voglio andare leggero, voglio passeggiare, è più la passeggiata stasera che mi interessa, voglio andare leggero, mi porto la XT4, così faccio anche qualche foto. Non sono bravo con le foto, assolutamente no. Infatti non condivido mai foto su Instagram, mai nella vita, neanche fatte col cellulare. Di solito quando le scatto poi le cancello, le riguardo, le cancello, però mi diverto a farle, mi rilassa fare foto. Mentre quando faccio il video sono molto teso, siccome so che non è il mio campo la foto, le faccio a cazzo di cane e mi diverto, cioè mi riscopro proprio amatore, perché quello sono, sono totalmente amatoriale come fotografo. E allora mi è venuto da pensare ad alcuni commenti che ho ricevuto sotto la recensione della XT4. Io ho parlato del mio passaggio da XH1 a XT4, facendo anche dei paragoni tra le due macchine. E molti si sono detti sconcertati da questo mio modus operandi perché la serie XT è una serie fotografica, la serie XH è una serie video, quindi non avrei dovuto pretendere determinate caratteristiche dalla serie XT. In realtà io mi sono limitato a dire che nella serie XH1 mi era piaciuta tantissimo quest'idea dello schermetto nella parte superiore con le informazioni sulla schedina e sulla batteria. A me risulta che sono due informazioni utilissime pure ai fotografi e poi mi sbaglierò, però a me mancano tanto. Cioè adesso qui c'è la ghiera per la compensazione dell'esposizione, ok? Per carità, utile sia per chi fa foto ma anche per chi fa video in modalità semi-automatica, funziona in entrambe le modalità, però avrei preferito lo schermetto. Io mi sono venuti a dire no ma quella è della serie XH, non ci pensare, la XT è diversa. Uno, non è vero perché la serie XT non aveva il sensore stabilizzato e adesso la serie XT ha il sensore stabilizzato, quindi non è che una serie deve rimanere ancorata alle sue caratteristiche, altrimenti i modelli successivi non avrebbe senso farli, no? E non solo questo è il problema, ma etichettare due serie come queste, come XT è per le foto, XH per i video non credo abbia molto senso. Vi spiego perché. Fujifilm XT3, guardiamo le opzioni di ripresa. Che cosa ci salta all'occhio? H265 420 10 bit. Oibo. Guardiamo la XH1, come molti dicono improntata al video. Il massimo che possiamo fare è H264 420 8 bit. Quindi, la macchina che ha detta di molti è per le foto, in realtà presenta opzioni di ripresa migliori. Dato di fatto. Quindi non capisco. Andiamo invece a esplorare quello che è il fattore stabilizzazione. Su questo sono d'accordo, cioè XH1 è più improntata al video perché stabilizzata. Infatti all'epoca io non ho scelto la XT3, anche se aveva opzioni di ripresa migliore. Ma ho scelto la XH1. Perché? Perché io ho un sacco di lenti Canon come questa che generalmente devo usare con un monopod o con un cavalletto perché? Per il semplice fatto che non sono stabilizzate. La C200 è il sensore non stabilizzato e quindi va da sé che se ho il sensore stabilizzato posso usare il mio 50mm f1.4, posso usare il mio 85mm f1.8, insomma. E poi posso comprare lenti più economiche perché senza la stabilizzazione spesso costano di meno. Quindi ho optato per la XH1, rinunciando anche a un'opzione di ripresa migliore in termini di colore per favorire tutta un'altra serie di cose. Adesso però il sensore stabilizzato ce l'hanno pure sulla serie XT. Quindi di che stiamo parlando? Quali sono attualmente le caratteristiche della serie XH per fare video migliori della serie XT? Vogliamo parlare dell'esposizione? Parliamo dell'esposizione. La XH1 pensata per fare video e a detta di molti non presenta una zebra, non presenta una loot di preview del profilo log, non ce l'ha. Macchina per il video dicono, eh? Non ha una loot di preview. La XT3, il modello precedente, aveva almeno una zebra. È una zero palla al centro, anzi tre a zero palla al centro. La XT4 ha preview del log, quindi una loot applicabile al log per esporre meglio, più zebra. Quindi abbiamo due strumenti di esposizione molto utili per i videomaker, mentre nella XH1 non c'è niente. Quindi alla luce di questo, perché continuiamo a dire che la serie XH è più improntata al video? Sempre per il sensore stabilizzato che adesso sta anche sulla serie XT? Io a volte non capisco. Le etichette sono belle, rendono il mondo più ordinato, senza dubbio, però in questo caso sono veramente insensate. Io non vedo la serie XH come una serie improntata al video. Vi basti pensare che sulla XT4 questo sportellino laterale, questo qui, può essere rimosso per andare a piazzare la macchina in un cage e poter cambiare tranquillamente la schedina senza dover smontare tutto. Un cage che come sappiamo è assolutamente uno strumento da fotografi e non da videomaker. Cioè, dai, sta cosa non è vera. Non è vero che questi due modelli sono così diversi. Sono semplicemente due serie. Secondo me questa poteva essere tranquillamente la XH2. È un'evoluzione rispetto alla XH1? Certo. Se avessi avuto lo schermetto qui e ve l'avessero venduta come XH2, ci avreste creduto. Costa 700 euro in più? E qui mi sono anche scordato di dirlo, ma la XT4 ha anche lo schermetto totalmente articolabile che la XH1 non ha e questa è una caratteristica che tutti gli etichettatori in genere attribuiscono alle macchine che fanno video. Ha lo schermettino, strumenti di esposizione migliorati, sensore migliorato, modalità di ripresa migliorata. Questo sarebbe stato un upgrade perfetto per la XH1 e infatti l'ho presa. perché è un upgrade perfetto dalla XH1. Grippa a parte, che vi ho detto, questo è un po' più scomodo. Io la vedo così e questa categorizzazione che sta facendo il mercato, che stanno facendo le riviste di settore, che stanno facendo anche i produttori, è pericolosa. Pericolosa perché fa perdere di vista la cosa importante quando decidi di comprare qualcosa. Cioè, cosa mi serve? Cioè, così rischi di non valutare l'acquisto della linea XT perché pensi che sia per fotografi. Cioè, se uno etichetta così, uno neanche va a guardarsene le caratteristiche della linea XT. Pensa, no, no, XH, XH, perché per i video io sono videomaker, faccio video, quindi XH, XH. A parte che se sei un videomaker e vuoi fare solo video, tu queste cose non dovresti comprarle. Però, per dire, credo che si debba scavare un po' più a fondo prima di prendere una decisione e prima di decidere quali sono le caratteristiche che ci interessano. Perché, oh, si tratta di soldi. Io spendo i miei soldi per avere quello che mi serve, non quello che l'azienda mi dice che mi serve. Se io non me ne faccio assolutamente nulla di una caratteristica, non vorrei pagarla. Se invece a me serve tantissimo una caratteristica, te la pago anche a peso d'oro. Però devo saperlo io. Non me lo deve insegnare l'azienda di turno, quello che mi serve. Tu sei un videomaker, prendi la XH1, ma chi te l'ha detto? Ma dove sta scritto? Dov'è il view assist? Dov'è la zebra? Dov'è il mio 10 bit? Dov'è? Non c'è. Quindi, finché la XH1 aveva il vantaggio del sensore stabilizzato, per me era giusta. E adesso è più giusta la XT4. Tutto qua, signori.